Pronto? Che sta scrivendo? La richiesta per un ordine del tribunale. Che nessuno firmerà perché nel consiglio della fondazione ci sono numerosi giudici. Cosa dovrei fare? Lasciare che muoia qualcun altro? Accidenti, sembri davvero stressata. Sai cosa ti ci vuole? Una serata di svago. Una serata di svago? Che cosa sono? Le chiavi per un altro mondo. Castle? Organizzano quattro raccolte fondi all'anno. L'ultima è stata poco prima che iniziassero le rapine. No. È perfetto. Non ti servirà la lista dei benefattori perché saranno tutti lì con addosso i loro gioielli. E se non è un impiegato o un volontario, il responsabile è... Truffatore. Il truffatore potrebbe essere alla festa. E noi potremmo sorvegliare l'entrata. È deciso. Passa a prendermi alle otto. Dimenticavo, hai richiesto l'abito da sera. Non è un problema, vero? No. No. No, 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 no. Quello va dritto al negozio di abiti usati. Oddio, molto anni ottanta. La commessa ha detto che va di moda. Beh, allora lei lavora a percentuale. Ah, ah. È da spogliare il lista. L'ho capito, sai? Lui sta cercando di umiliarmi. La ne puoi aprire tu? Va bene. Ma non voglio trovarti col vestito del ballo delle debuttanti. Nervoso per l'appuntamento? Non è un appuntamento, ma un'operazione sotto copertura. Ah, ah. Mi aiuti? Certo. Non capisco perché non vuoi dirmi dov'è la festa. Perché ti presenteresti? Chi era? Una consegna. Da parte di chi? Scopriamolo. Bibidi Bobidi Boo. Cenerentola. L'ha mandato lui. Cosa aspetti? Sarà un vestito. Aprilo subito. Andiamo? Ah, sapevo che era arrogante, ma questo, questo è davvero... Oh. Meravigliosa. Davvero meravigliosa. Entra, entra. Aspetta, so io che cosa ci vuole. Sei bellissima. Davvero? Sì. Stai benissimo, Detective Beckett. Grazie, Castle. L'ho indossata l'ultima volta per una premiazione teatrale. No, Marta, non posso accettare. Certo che puoi. Fammi vedere. Oh, è stupenda. Allora dove andate stasera? Andiamo al Waldorf. Ci parli dei suoi prossimi lavori. Sembrano colpevoli di evasione fiscale, non di violazione di domicili. Già, beh. A volte le apparenze ingannano. Bel vestito. Già, quel poco che c'è. Te lo presterai, Esposito, ma l'ultimo vestito me l'hai allargato. Grazie.